Di solito su letture metropolitane quando parliamo di scienza chiediamo sempre aiuto a persone più competenti di noi, anche perché appunto non essendo noi degli scienziati, avendo studiato a scuola determinati argomenti, certe notizie ci colpiscono ma vogliamo saperne di più. Per sapere di più sulla notizia più, tra virgolette, curiosa ma anche sorprendente e anche emozionante della settimana scorsa, ho chiesto una mano a Silvia Bencevelli che abbiamo in collegamento. Eccomi qua, la vuoi dire qual è la notizia? Sì, la notizia è piuttosto roboante, stiamo parlando della storia della ricercatrice che si è iniettata dei virus per curarsi un tumore, questa è l'estrema sintesi che il post ci offre, però appunto abbiamo chiamato te in quanto giornalista, divulgatrice scientifica, conduttrice radiofonica e televisiva, ma anche l'autrice nell'ultimo anno di Il Dubbio, Il Desiderio e Il Dubbio e Il Desiderio, Eva Mameli Calvino per Electa, ma soprattutto, sempre nel 24, Eroica, Folle e Visionaria, storia di medicina spericolata per Bollati Boringa. Vorrei contraddire, lo so che, ma del 23, oggi è stata detta male da Radio 3. Ok, bene, registriamo la correzione, però appunto mi sembra assolutamente una linea drittissima e rigorosa quello che appunto ci porta alla storia di Beata Alessi, la virologa croata che adesso ha 53 anni, ma ha recentemente, è appunto arrivata addirittura, nella sintesi estrema che ho usato prima, anche alle nostre orecchie per un caso piuttosto unico, iniziamo a dire, quindi la notizia è piuttosto relativa dal punto di vista statistico, però molto molto importante dal punto di vista anche della divulgazione scientifica. Ci puoi raccontare esattamente che cosa è successo e quanto è effettivamente importante questa notizia per tutti noi? Allora, lei si chiama Beata Alessi, è una virologa croata, quindi una biologa, che alla seconda recidiva del suo tumore mammario, all'età di 49 anni, quindi avendo già fatto una mastectomia precedente, chemioterapie precedenti, così, si è vista per la seconda volta, si è sentita per la seconda volta dire il tumore è tornato. Quindi, diciamo, il contesto umano è questo. Lei, da virologa, sapeva bene che nel mondo da tempo si stanno studiando dei virus oncolitici, cioè capaci di attaccare, diciamo così, il tumore o di infilarsi nel tumore più che in altre zone del nostro organismo, e questa caratteristica che viene usata per fare delle terapie che sfruttano il nostro sistema immunitario, cioè il lavoro sporco lo fa il sistema immunitario, il virus si infila nel tumore e il nostro sistema immunitario va lì e uccide le cellule tumorali prima di toccare le nostre. Ovviamente questo, così ho detto in maniera molto semplificatrice, perché ci sono mille cose da fare, modifiche genetiche, controlli di rischi di vario tipo, eccetera. Questa terapia la si sta studiando più o meno da un secolo a grandi linee, ma sono 40 anni che ci sono dei gruppi di ricerca che ci lavorano in maniera più attenta e anche in Italia si fanno studi di questo tipo, ancora non sperimentazioni e questo tipo di terapia dunque non è, precisiamolo, non è al di fuori della cornice scientifica. Qui non stiamo parlando di terapie del pazzoide, del ciarlatano o di quello che si è inventato, queste sono terapie allo studio da tanto tempo. Il punto è che queste terapie in tutto questo tempo hanno dato solo un risultato che le rende in questo momento utilizzabili, quindi esiste soltanto un protocollo per il melanoma metastatico, che è una malattia importante, e queste terapie sono state approvate sia in Europa sia negli Stati Uniti, quest'unica terapia, ma viene usata poco, in Italia non viene usata. Perché? Perché abbiamo di meglio. Ok? Questo sia chiaro, non è che non viene usata perché i nostri non sono bravi. ci sono poi diverse altre terapie di tipo virale, oncoterapie virali allo studio, ma nell'ordine delle 4-5, anche nei congressi più recenti sull'oncologia medica, clinica e di ricerca io non ho trovato più di 4-5 sperimentazioni in corso, che vuol dire poche, ok? Vuol dire molto poche. Quindi è un settore dignitosissimo, ma è un settore che non ha dato frutti, ok? Non è detto che non li darà in futuro, però al momento è questo un po' quello che ha fatto pensare all'azzardo della virologa croata. Ma la virologa croata non è una sprovveduta. Cosa ha fatto? Ha fatto questa terapia per due mesi, scegliendosi dei virus descritti in letteratura scientifica. Lei non ha nessuna esperienza di virus oncolitici, lei lavorava su tutt'altro, però è una virologa, quindi è andata a vedere cosa succede nella ricerca e ha preso due virus più plausibili per questo tipo di cose. Ha fatto due mesi di terapia che si è somministrata da sé, sotto stretto controllo oncologico, con le colleghe dell'oncologia che la tenevano d'occhio ogni giorno e dopo due mesi ha fatto l'intervento chirurgico e poi la terapia che fanno tutte le donne del mondo che hanno quel tipo di tumori lì. Che è una terapia che funziona. Diciamo anche questo. Lei, questa cosa è successa quattro anni fa, l'ha pubblicata questo agosto, ma l'ha pubblicata questo agosto anche perché nessuno gliela voleva pubblicare. Va detto questo. Nel senso che ci ha messo un po' di più a pubblicare questa. E l'ha pubblicata su una rivista non proprio top level, una rivista un po'... Allegra nelle pubblicazioni. Diciamo un po' leggera sui criteri di ammissione degli articoli scientifici. Comunque l'ha pubblicato. Pubblicato questo articolo dicendo che ha funzionato. Ora, su che base uno dice che ha funzionato, visto che ha fatto la terapia che fanno tutte le donne del mondo con quel tipo di malattia lì. Cioè una terapia con un anticorpo monoclonale molto efficace che è stata considerata veramente la svolta nell'oncologia dei tumori femminili. Lei lo dice sulla base del fatto che quando si è sottoposta all'intervento chirurgico, due mesi dopo aver cominciato la terapia con i virus oncolitici, questa massa tumorale risultava a suo dire più piccola, più facile da staccare dal resto, quindi meno infiltrata nei tessuti vicini e infarcita di cellule del sistema immunitario. Siccome la viroterapia, come vi dicevo, funziona, che il virus entra nella massa e poi è il sistema immunitario ad attaccarlo, secondo lei questo era segno del fatto che questo miglioramento della massa, questa riduzione della massa, sia stato dovuto a un attacco da parte del sistema immunitario, attacco sollecitato dalla viroterapia. Quindi lei dà questa spiegazione. Ora, questa cosa ovviamente non è considerata conclusiva ed è stata ampiamente criticata e se vuoi ti dico perché. Sì, perché il problema che si pone adesso è di natura etica, ma anche appunto dal punto di vista nostro, tra virgolette, è anche di come la leggiamo e come la divulghiamo questa notizia. Non sono tutte legate queste storie. Allora, le critiche che sono state mosse a lei, la critica che è stata mosse a lei, diciamo, tecnicamente la prima è questa, quello che ha fatto lei non è dimostrabile. Perché non è dimostrabile? Perché ha fatto altre terapie, perché non ha seguito dei protocolli sperimentali politici, quindi una critica. Seconda critica, di conseguenza, da questo punto uno, e di conseguenza dal fatto che lei non ha agito all'interno dei protocolli sperimentali già adesso aperti, secondo, bla bla bla, quello che ha fatto lei non dà nessun contributo alla scienza. Ok, quindi lei avrebbe potuto non pubblicare, è stato detto. Terza critica, avendo pubblicato, è possibile che ci siano adesso degli emulatori. Emulatori. Lei obietta, ma io sono una virologa, ci vorrebbe un altro virologo per emularmi? Perché tecnicamente è molto difficile isolare il virus, fare queste iniezioni, eccetera, eccetera. Controbiezione. Non è che ti emulano i pazienti, ti emulano i truffatori. E questa è una cosa importante da dire, perché in questo momento, ovviamente, terapia truffa, tra le terapie truffa, per i tumori ne esistono di tutti i tipi. Esiste ovviamente anche la terapia con virus oncolitici truffa, che è, a dir la truffa forse è un po' forte, ma insomma è una terapia che è stata brevettata solo in Lettonia. Nessun altro paese del mondo l'ha voluta brevettare, perché è rimasta a uno stadio molto precoce della ricerca e non è mai stata sperimentata davvero. Quindi diciamo, una terapia non sperimentata, è brevettata vent'anni fa solo in Lettonia, che si chiama Rigvir, dove Rig sta per Riga. E' proprio una roba di casa loro. Nemmeno i Lettoni la usano, ok? Però su internet la si trova proposta per tutti i tipi di tumore. Viene inviata, oppure c'è gente, si sa, pazienti italiani, poveracci, che sono andati in Lettonia sperando di guarire, e ovviamente questa roba non ha funzionato. Quindi la critica è, attenzione, che soprattutto in ambito oncologico, i truffatori sono pronti a utilizzare ogni cosa. Contro contro critica, che ci metto io, e questa è una obiezione un po' paternalistica. Cioè va bene difendere la popolazione, va bene che noi medici pensiamo di essere quelli che devono tutelare il bene di tutti e che sono gli unici capaci di farlo. Però abbiamo detto che non funzionava più così, che noi con i pazienti ci parlavamo, insomma non che censuravamo le cose per evitare che loro sapessero. Semmai facciamo quello che sto facendo io adesso, cioè ci mettiamo la faccia e raccontiamo perché questa storia è eccezionale. Poi ci sono delle altre critiche che dipendono dal fatto che questo è un autoesperimento. Allora io sugli autoesperimenti ho scritto quel librone lì, grosso così, ma è un libro di storia sostanzialmente, perché gli autoesperimenti dagli anni Ottanta non si fanno più, più o meno. Cioè a un certo punto abbiamo smesso di farli, gli ultimi di un certo rilievo sono stati negli anni Ottanta. E perché non si fanno più? Perché oggi vengono considerati molto poco attendibili, oltre che molto poco etici, perché con un'unica persona non ci fai un campione sperimentale, hai bisogno di campioni grossi oggi. Perché se tu sei contemporaneamente il soggetto sperimentale, lo sperimentatore, non puoi fare quelle cose che si chiamano cieco e doppio cieco, quindi non puoi fare degli studi veramente puliti, perché tu osservi quello che vuoi osservare. Appunto questa cosa, la massa ridotta, dei linfociti eccetera, lo dice lei che è già convinta della veridicità delle proprie affermazioni, non può essere lei a dirlo. Potrebbe essere un ricercatore indipendente, messo all'oscuro di cose, insomma, ci sono dei sistemi per pulire le osservazioni e per darle più pulite possibile. Poi ovviamente non c'è stata nessuna approvazione di un comitato etico, questo uno può dire vabbè, però per pubblicare sulle riviste questo ormai ci vuole, perché sono tipi di osservazione, insomma, i comitati etici, insomma, a qualcosa servono, ogni tanto si fa fatica a dire esattamente la cosa, però servono e nella fattispecie forse non avrebbero dato l'autorizzazione. Ma comunque qui è lei che si è fatta da sola nel suo laboratorio con gli oncologi a guardarla e tutti d'accordo questa terapia e ha pubblicato dicendolo onestamente, pubblicato dicendo questo è un caso di autoesperimento. Per cui alla fine della fiera, secondo me, lei ha fatto bene a pubblicare. Allora, lei è comprensibile che abbia fatto quel che ha fatto e sono piuttosto sicura che i medici in tanti casi non seguono esattamente i percorsi protocollari standard, magari ai pazienti, non lo so, ti faccio un esempio un po' brutale, io so piuttosto bene che i medici tante volte non insistono con se stessi, quando sono loro stessi malati, interrompono le terapie molto prima e passano alla pagliazione prima, se sanno qual è il loro, cioè in certi casi, a meno che non siano quelle terapie che ti garantiscono un'ottima qualità della vita fino alla fine, ormai ci sono, però nei casi in cui sanno che i medici sono tra i primi a conoscere la rinuncia le cure. Quindi non escludo che d'altra parte i medici facciano anche per sé magari delle scelte un po' diverse da quelle da protocollo. Lei l'ha pubblicata questa cosa e questo apre un nuovo fronte di discussione perché può darsi che in futuro ritorneremo a sentir parlare di autoesperimenti o di autoterapie o di autocose perché i medici si ammalano come tutti, hanno come tutti voglia di vivere, di cercare il modo migliore per guarire dalle cose, di guarire se stessi e i propri familiari e magari se cominciamo davvero a rinunciare a quel fondo di paternalismo che abbiamo in testa proponiamo anche al resto del pubblico una discussione su questi temi che fino a questo caso effettivamente non era stata molto aperta. Proprio a proposito di questo, visto che tra l'altro siamo in un paese dove tumori del genere sono molto molto diffusi e nonostante tutto anche il nostro sistema sanitario è piuttosto avanti anche nella preparazione, nel livello rispetto appunto al livello mondiale nonostante appunto i tagli diversi e frequenti, il discorso anche di come recepire questa notizia merita approfondimento, merita tempo, merita profondità ma non sempre i giornali hanno voglia ma ho anche tempo di fare questo lavoro. Quali sono, magari puoi usare questo evento, questa notizia come esempio quali sono le tre cose che anche quando leggiamo una notizia scientifica ci devono far suonare dei campanelli quali sono i red flag che forse... Guarda, intanto dove la leggiamo? Se la leggiamo su Nature News in genere è stata vagliata o ci sono tutti gli aspetti critici della questione su questo caso di Beata Lassi, scritto H-A-L-A-S-S-Y in fondo c'è una news su Nature News con tutti gli aspetti critici, i vari link e così via se la leggiamo su una rivista che l'ha ripresa da quarta mano, magari gira solo su internet e non la paghiamo, in genere l'informazione che costa zero è di qualità scadente è probabile che dentro ci siano cose non attendibili poi nella fattispecie riguardo alla scienza bisogna sapere che non c'è mai uno studio, una ricerca o una cosa che cambia la nostra vita quindi Beata Lassi può darsi che abbia avuto un beneficio dalla sua viroterapia ma questo non significa che da domani facciamo la viroterapia oncolitica in ospedale perché per nostra tutela esistono dei sistemi che fanno sì che le cose non arrivino al letto del malato da un momento all'altro sulla base di un solo caso clinico, sulla base di una sola pubblicazione eccetera quindi in generale se noi troviamo scritto ah il tizio ha fatto un esperimento che da te ha fatto un esperimento ma questo non vuol dire che da domani abbiamo cambiato niente o che cambi la nostra visione sulla malattia eccetera poi ci sono degli altri sistemi in genere la scienza è critica e propone critica quindi se noi leggiamo un articolo scientifico che racconta una ricerca scientifica ci devono essere anche voci diverse che non vuol dire le classiche due campane perché nella scienza siamo tutti d'accordo su certe cose di base il cambiamento climatico o crisi climatica è dovuta alle nostre attività e non c'è verso se sentite uno che dice il contrario è probabilmente idem l'informazione genetica delle cellule nel DNA quando la cellula muta si può avere lo sviluppo di un tumore non c'è niente di psicologico che prova lo sviluppo di un tumore su questo siamo tutti d'accordo quindi non è il trauma infantile che fa sì che tu abbia sviluppato un tumore ricordati la medicina di Amer e così via quindi su queste cose siamo tutti d'accordo ma se c'è qualcosa tipo una nuova terapia all'interno della cornice scientifica normale come si è mossa lì dentro anche Beata Lassi c'è quasi sempre qualcuno che dice ci vorranno altre ricerche ci vuole cautela questa strada va vista e sono tutte voci che in generale hanno un'affiliazione accademica riconoscibile quindi professore di qui ricercatore di là eccetera non perché io creda che l'accademia sia depositare chissà quali soluzioni che siano tutte persone in buona fede questo ovviamente lo sappiamo non è così però almeno una è riconoscibile se io ti dico una cosa mi devi mettere accanto chi sono in qualità di cosa lo dico e questo ti fa decidere se io sono attendibile o meno allora ci sono dei casi cioè il fatto che abbia pubblicato con un editore grande riconoscibile eccetera dà un pochino di solidità a quel che dico ma se io fossi una youtuber probabilmente tu non mi avresti intervistato con tutto il rispetto per gli youtuber non è che tutti gli youtuber sono degli scappati di casa però se uno la fama che si è fatta come esperto di bla se l'è fatta solo su youtube è un po' poco nella ricerca scientifica si pubblica quindi si dice pubblicamente ho fatto questo poi quell'altro ti riprende eccetera eccetera chi non lo fa non ci sta dentro quindi non va citato nella ricerca scientifica chiarissimo veramente prezioso grazie davvero Silvia Vencivelli ti seguiremo visto la frequenza di pubblicazioni a questo punto sono molto curioso di sapere a cosa stai lavorando ma si è dimenticato uno c'è il giallo per ragazzi il mistero di Gatto Sclepio per Salani editore vabbè è un giallo per ragazzi e beh tra l'altro appunto oltre a metterci la faccia la firma e pubblicare la diffusione ma anche lo spazio di incidenza delle tue scritture è piuttosto emblematico grazie molte ci riascoltiamo molte grazie ciao 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 ciao